Grida, insulti, minacce ma anche violenze fisiche ad almeno 10 bimbi di pochi mesi o meno di un anno o poco più. Maltrattamenti quotidiani, offese volgari, strattonamenti e anche mani e gambe sulla schiena per impedire a loro di alzarsi e obbligarli a dormire. Una maestra educatrice di 45 anni di un asilo nido comunale di Milano è stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti aggravati. I maltrattamenti sarebbero avvenuti dal 2022 in poi. L'indagine è scaturita dalla denuncia della direzione dell'area servizi infanzia del comune sulla base di precedenti segnalazioni di altre educatrici dell'asilo. La 45enne, come si legge nel provvedimento firmato dal GIP Angela Minerva, urlava contro i piccoli se piangevano e li scuoteva con forza per farli dormire. In altri casi li copreva completamente con una coperta o li costringeva a consumare il cibo velocemente, mentre passava spesso il tempo a guardare il cellulare piuttosto che a vigilare su di loro. I bambini venivano inoltre afferrati per un braccio e poi lasciati cadere, facendo sbattere a loro la faccia per terra e quando non venivano colpiti, la maestra li colpiva con ripetute pacche sul sedere. La donna si trova ora agli arresti domiciliari.